Andiamo qua di fianco. Altra cosa sono i materiali, qua vedete in trasparenza le barre e poi qua si intravedono i denti in plastica resina. Perché i denti in resina non vanno bene? Perché la resina assorbe acqua e si crea il microfilm batterico sulla resina. La resina è un materiale che non dura in bocca tanto tempo, anzi la resina tende a cristallizzare con l'acidità della bocca, come le persiane al sole. Questa è una, per esempio, una protese in resina. Vedete che è porosa la resina. Ok, questa è una protese in resina. La ceramica, lo zirconio, il composito sono molto più stabili nel tempo. Invece la resina noi la usiamo come protesi provvisoria, 4 mesi, massimo un anno. Poi va buttata e vanno messi materiali stabili in bocca, perché in bocca l'acidità c'è. Se poi uno fuma, prende il caffè e il pH scende e si deposita al tartaro, si deposita sulle protesi. La resina poi cristallizza e si può rompere anche. Ok, questa è resina con immerso metallo dentro. Si rompono. Ok, è plastica. Che poi la chiamiamo in resina o plastica e non dura dieci anni, vent'anni. Assolutamente. Qualche anno, massimo. Ma si può rompere, perché è plastica. Vi sto portando ora, piano piano, verso i problemi della protesi. La protesi può essere fatta con materiali anche più sofisticati. Qua quanti materiali vedete? Due ne vedete. Una parte interna metallica e una parte in resina esterna. Quelli che vi mostro adesso invece sono dei denti dove c'è un'anima interna in titanio, che è questa. Una parte esterna in polimero, che è questo. Una dà resistenza, l'altra invece assorbe i carichi masticatori, lo zirconio nella parte esterna e il composito che simula la gengiva. Qua sono già quattro materiali all'interno di questa protesi. I colletti sono lucidi, tirati a lucido, perché? Perché la parte è questa dove non voglio che si crei attacco biofilm batterico. Devo portare la protesi il più possibile oltre la gengiva. E traghetto la protesi oltre la gengiva con questi colletti. Gli impianti stanno protetti dentro alla gengiva, poi ci sono quegli snodi, piattelli. Porto ancora più sulla protesi e inizio a simulare quello che ho perduto nella bocca. I denti e gengiva e osso. Poi simulo anche le superfici, le texture di superficie. Vado a inquadrare i denti nel sorriso. Questa è una bocca bionica. Ok, sotto, dentro, è come questa. Non sono denti sensibili. Significa che mancano di cosa? Di tattilità. Non sentono il gelato, il caldo, il freddo. Non si sente. Se mordi un cappello non lo percepisci, che hai un cappello tra i denti. Con i denti naturali si tiene uno spillo con i denti naturali. Con i denti artificiali non hai questa sensibilità. Con i denti artificiali non hai questa sensibilità. Grazie a tutti.